Importanza del periodo di prova. Il periodo di prova serve alle badanti e alle colf per sperimentare sul campo la tipologia di lavoro richiesto, così come viene presentata nella lettera di assunzione. Anche il datore di lavoro ha così la possibilità di osservare se le sue richieste sono soddisfatte fattivamente. Il periodo di prova può avere inizio solo dopo 24 ore da quando la lettera di assunzione, regolarmente condivisa e firmata da lavoratore e datore di lavoro, è stata comunicata all'Inps. Questa pratica permette al lavoratore di essere tutelato fin dal primo istante in cui inizia la sua attività. Il lavoratore in prova ha gli stessi diritti ed obblighi di un lavoratore assunto a tempo indeterminato, quindi ha diritto alla retribuzione anche in questo periodo. Durante il periodo di prova maturano TFR e tredicesima. Per colf badanti assunte col contratto B, B super, C, C super, il periodo di prova dura 8 giorni effettivi di lavoro. Per le badanti assunte col contratto D super, il periodo di prova dura 30 giorni effettivi di lavoro.